Cordiali colloqui stamani in Vaticano tra Papa Francesco e il Presidente palestinese Mahmoud Abbas, che domani in piazza San Pietro prenderà parte la messa di canonizzazione di due beate palestinesi, Maria Alfonsina Daniel Gattas e sua armaria di Gesù Crucifisso. Si è discusso anche del processo di pace con Israele ed è stato espresso l'auspicio che si possano riprendere negoziati diretti tra le parti per trovare una soluzione giusta e duratura al conflitto. Inoltre, con il sostegno della comunità internazionale, si è ribadito l'augurio che israeliani e palestinesi prendano decisioni coraggiose per la pace. È poi necessario combattere il terrorismo in Medio Oriente e rafforzare il dialogo interreligioso. Infine è stata espressa grande soddisfazione per l'intesa raggiunta sul testo di un accordo su alcuni aspetti essenziali della vita e dell'attività della Chiesa Cattolica in Palestina, che sarà firmato in un prossimo futuro. Dopo lo scambio di doni, la Presidente Abbas ha incontrato il Cardinale Segretario di Stato Pietro Barolin, accompagnato da Monsignor Paul Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati.